se dobbiamo fare un mini bilancio del giorno di andata credo che sia stato sicuramente positivo nella consapevolezza che potevamo anche fare di più però da dove siamo partiti con le difficoltà che abbiamo soprattutto legate ai campi di allenamento però è una difficoltà importante credo che la squadra abbia fatto una squadra completamente nuova abbia fatto un buon percorso mi rompe le scatole in maniera proprio grossa il secondo tempo di Olbia quello sarebbe se potessi cancellare una parte di questo girone di andata cancellerei assolutamente gli ultimi 14 minuti di Cremona e il secondo tempo di Olbia tanto torna a disposizione anche Yanga che ha fatto tutta la settimana con la squadra e quindi è di nuovo disponibile e Luciani torna a disposizione avendo già fatto un allenamento nella scorsa settimana tra l'altro un infortunio insomma piccolo era solo una contrattura forte non c'erano lesioni l'unico che sarà assente è Arcidiacono che ancora non riesce a risolvere i problemi legati al vecchio infortunio, alla cicatrice che gli si era formata l'anno scorso dopo l'infortunio al Polpaccio a Foggia voglio un Arezzo diverso, voglio un Arezzo che abbia cattiveria agonistica e voglio un Arezzo che sia quello che per tantissime gare ha entusiasmato e reso orgogliosi i propri tifosi dobbiamo avere quello spirito lì, dobbiamo avere lo spirito garibaldino di non accontentarsi ma di voler costantemente mettere in difficoltà il nostro avversario